Napoli scontro nella notte, muore 19 anni di Casoria, ennesimo incidente stradale mortale, la giovane era a bordo di un'auto con alcuni amici, l'impatto frontale intorno a Luna con un'altra auto in via Cupa dell'Arco, a Salerno perde la vita giovane Centauro. Ammazzato davanti al figlio per un debito di 5.000 euro, fermato il presunto killer dell'omicidio alla duchesca a Napoli e un parente della vittima, Luigi Procopio venne ucciso a colpi di pistola lo scorso 30 settembre, Gratteri, l'arresto, risposta a chi crede che Napoli sia il Sud America. Il G7 interno ha acceso un faro sull'Irpinia, stretta sulle rotte dei migranti e contrasto al traffico di droga, il vertice dei ministri dell'interno a Mirabella e Clano ha approvato l'action plan e il ministro piante e dosi ha promesso attenzione sull'emergenza idrica in Irpinia. De Luca a noi trasparenti, Malala Schlein lo frena. Le inchieste giudiziarie che hanno coinvolto i fedelissimi del governatore complicano la corsa verso il terzo mandato in regione, ma De Luca chiarisce. Campania prima per legalità, alto là di Ruotolo e Sarracino, serve rinnovamento. Sannio e il PD rilancia la vertenza aere interne. I DEM hanno presentato stamane a Benevento il programma della festa dell'unità che si tiene a Foiano di Valfortore nel prossimo weekend. Si punta sulla battaglia contro l'autonomia differenziata con il governatore De Luca. Buongiorno e ben ritrovati con la nostra informazione. In apertura c'è la cronaca. Due incidenti stradali in poche ore a Napoli e Salerno. Questa notte a Secondigliano è morta una 19enne di Casoria. Tragedia nel pomeriggio di ieri nella città di Arechi. Un ventenne finito con la sua moto contro una Fiat Panda perdendo la vita sul colpo. Vediamo il servizio. Due giovani vittime della strada in poche ore tra Napoli e Salerno. Scontro frontale tra due auto questa notte intorno all'una e mezza a Secondigliano in via Cupa dell'Arco. Violentissimo l'impatto. Una delle due vetture si è ribaltata. Morta Martina, una ragazza di 19 anni originaria di Casoria. Feriti altri cinque giovani. Si allunga la conta degli incidenti fatali nel capoluogo martedì scorso. In via Marina è investita e uccisa la mamma 42enne Maria Vertaglio. A Salerno città invece prima vittima del 2024 sull'asfalto. Venerdì sera intorno alle 5.30 il ventenne Valerio Pisapia è morto sul colpo dopo essersi scontrato nel rione collinare di Giovi con la sua moto frontalmente con una Fiat Panda guidata da un sessantenne. Questo pomeriggio i funerali le associazioni ribadiscono prudenza e prevenzione. Ancora una volta dobbiamo alzare un po' la sticella e capire queste strade, che cosa manca. Sulla strada di Giovi l'ennesima vittima, una strada che non è che tanto ci piace, un po' abbandonata, manto stradale, mancanza di luminari. Va fatto un tavolo tecnico per i tipristi. La vittima è figlio di un agente della Polizia Municipale di Salerno. La donna aveva già perso marito e figlia in un incidente stradale. La famiglia non solo ha subito una sconfitta sulla strada alcuni anni fa e oggi ha dovuto dividere per un'altra volta, l'ennesima volta come mamma, la perdita di un figlio su una strada. È veramente uno sconcerto. Preso a Milano il killer della Duchesca lunedì scorso, aveva ucciso Luigi Procopio davanti al figlio di undici anni per un debito di 5 mila euro. Il fermato è un familiare della vittima. Sentiamo. È stato fermato il presunto assassino di Luigi Procopio, il 45enne ucciso lo scorso 30 settembre nei vicoli della Duchesca. È stato rintracciato a Milano, dove si era spostato dopo il delitto avvenuto in pieno giorno davanti a decine di persone. Le indagini della squadra mobile di Napoli, coordinate dalla DDA, avevano isolato il presunto killer già nelle ore successive all'omicidio. Era stato spiccato dalla DDA un provvedimento di fermo per il sospettato che nel frattempo aveva lasciato la Campania per spostarsi in Lombardia. Il fermato è Antonio Amoroso, 37 anni, nipote acquisito della vittima, vicino alla mala di Forcella. Il delitto ha una modalità mafiosa, ma il movente sarebbe legato a motivi di soldi, un debito di 5 mila euro che Procopio avrebbe contratto con Amoroso. Il 37enne avrebbe deciso di punire il familiare aprendo il fuoco davanti al nipotino, il figlio di Procopio, di appena undici anni. Il fermo per l'omicidio Procopio è la risposta dello Stato a chi crede che Napoli sia come alcune città del Sud America. Lo ha detto il procuratore Nicola Gratteri, intervenuto questa mattina a Casola di Napoli per inaugurare un murales per la legalità. È vero, a Napoli può ancora accadere che si spari in pieno giorno, ha detto Gratteri, ma siamo sul pezzo. Alle forze dell'ordine e alla magistratura servono solo più mezzi e più tecnologia. Soppressi 8 treni su 10 in circunveso viana e 2 su 3 lungo le linee flegree. Sono i dati parziali diramati dall'ent autonomo Volturno in merito alla doppia azione di sciopero proclamata oggi dal sindacato Orsa. La prima di 24 ore per il rinnovo del contratto e 4 ore per le problematiche aziendali. Su circa 780 dipendenti presenti nelle fasce mattutine come in forma Eav hanno aderito alla doppia astensione 107 unità per una percentuale di circa il 13,7%. La circolazione sulle flegree ha registrato l'effettuazione di 14 corse sulle 39 programmate nelle ore mattutine. Poi la circolazione si è fermata totalmente per l'adesione dei dirigenti operatori presenti nel turno intermedio. A Napoli il servizio, la funicolare centrale, ferme quelle di Montesanto e Mergellina. Stop anche per la linea 1 e linea 6 della metro. Stretta sulle rotte dei migranti e contrasto al traffico di droga. Il vertice del G7 a Mirabella e Clano ha approvato l'action plan. Il ministro Piantedosi inoltre ha promesso grande attenzione per i problemi dell'Irpinia. Un bilancio estremamente positivo per il G7 in Irpinia, occasione non solo per i ministri dell'interno a confrontarsi sui grandi temi della sicurezza, ma anche per il territorio che ha messo in mostra le sue eccellenze. Ieri giornata conclusiva delle due giorni di lavoro, il G7 a Mirabella e Clano ha approvato un action plan. Dando seguito peraltro al mandato che ci era stato conferito in occasione del G7 dei leader a Borghegnazzi, abbiamo adottato un action plan che declina le principali linee di azione per contrastare il traffico di esseri umani. Sul fronte del terrorismo, in un momento delicato come quello che stiamo vivendo, siamo determinati ad adottare qualsiasi misura lecita a livello nazionale ed internazionale per raffrontare l'escalation dell'attuale crisi medio orientale e quindi anche il suo possibile impatto sulle nostre comunità. Piante e dosi inoltre ha promesso grande attenzione per i problemi legati all'Irpinia, primo fra questi l'emergenza idrica. Io trovo singolare che una provincia come questa, che dà acqua per dissetare, ma per alimentare l'industria agroalimentare di intere regioni, di intere altre province, poi possa vivere anche nei comuni che hanno le sorgenti tra le più produttive d'Italia. Però evidentemente è marcato da parte di qualcuno che doveva avere una visione generale il fatto di garantire una manutenzione delle reti che non facesse sì, come mi pare di aver letto che avvenga, che c'è una dispersione sulla rete del 60%. Intanto ieri sera ad Avellino Centro un corteo di protesta sfilato per il corso proprio contro il G7. Le inchieste giudiziarie che hanno coinvolto i fedelissimi di Vincenzo De Luca complicano la corsa verso il terzo mandato dell'ex sindaco di Salerno. Il governatore rilancia la campagna e prima per legalità. Non ha fatto alcun riferimento alle inchieste che hanno coinvolto il consigliere regionale Giovanni Zannini ed il presidente della provincia di Salerno, Franco Alfieri, ma il governatore campano Vincenzo De Luca nel corso del consueto appuntamento social ha lanciato un messaggio chiaro in materia di legalità alla campagna e all'avanguardia in Italia. Abbiamo firmato un accordo con la Guardia di Finanza qualche giorno fa. Abbiamo cioè stabilito di avere un controllo rigoroso da parte della Guardia di Finanza sulle gare che facciamo, sulle imprese, sull'affidabilità dei vari soggetti che interlocuiscono con la regione campagna. I casi Zannini ed Alfieri però sono diventati motivi di scontro anche all'interno dello stesso PD. Marco Saracino e Sandro Ruotolo, esponenti della Lascia Line, hanno ribadito la contrarietà al terzo mandato, sottolineando la necessità di avviare un rinnovamento all'interno del partito. Da Salerno invece i Dem hanno espresso solidarietà umana a Franco Alfieri. Il Partito Democratico sicuramente ha adottato quelle che sono le misure che sono previste dallo Statuto e dai regolamenti anche della Commissione di Garanzia. Fermo restando che abbiamo come in ogni occasione che siamo interessati come amministratori locali da procedimenti, dare fiducia alla magistratura ma chiederà anche tempi rapidi, sicuramente la vicinanza umana al Presidente della provincia Franco Alfieri che da sindaco è molto amato dai propri cittadini residenti a Capaccio Pestum ma così come in provincia di Salerno è uno dei politici più riconosciuti e sicuramente saprà dimostrare la propria innocenza. Nuovo sciame sismico ai Campi Flegrei, la scossa più forte di magnitudo 2.4 alle 6 di questa mattina dal 9 al 12 ottobre l'esercitazione della protezione civile in cui si testerà l'allontanamento della popolazione dai comuni inseriti nella zona rossa. Sentiamo. Torna la paura ai Campi Flegrei. Serie di scosse di terremoto questa mattina con il sisma più forte di magnitudo 2.4 registrato dai sismografi dell'osservatorio vesuviano degli NGV alle ore 6 con epicentro alla Solfatara. Le scosse sono state avvertite distintamente dalla popolazione sia nel comune di Pozzuoli che nei comuni limitrofi e nei quartieri nord-occidentali di Napoli. La terra torna a tremare a pochi giorni dall'esercitazione nazionale sul rischio vulcanico organizzata dal Dipartimento della Protezione Civile e dalla Regione Campania in collaborazione con i comuni della zona rossa dei Campi Flegrei, con la Prefettura di Napoli, con le strutture operative e i centri di competenza del Dipartimento. L'esercitazione in programma dal 9 al 12 ottobre si svolgerà nell'ambito della sesta edizione della settimana nazionale della protezione civile. In particolare sarà attestato l'allontanamento della popolazione dei comuni inseriti nella zona rossa. A Bagnoli questa mattina è gazebo informativo della protezione civile. Informiamo la popolazione delle pratiche di protezione civile, in che modo comportarsi e poi consegniamo questi libretti in cui ci sono tutte le informazioni necessarie per affrontare l'emergenza e in più ci sono le aree di attesa che qui a Bagnoli sono a Viale della Libertà che porteranno a Piazza Garibaldi e da Piazza Garibaldi poi ci saranno i censimenti e i pullman che porteranno poi le persone nelle regioni prestabilite, Bagnoli, Basilicata e Calabria. Ed ora andiamo a Flumeri in Irpinia dove c'è stata la visita del Ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida in occasione dell'incontro Armando 2024, riflettori puntati sulla filiera del grano. Occorre fare squadra non solo tra istituzioni e privati ma anche all'interno delle singole filiere per garantire prodotti di qualità elevata da un lato e un giusto reddito per gli agricoltori dall'altro. Ma c'è un ostacolo che dovrà essere assolutamente superato ed è quello della logistica sulla quale bisogna assolutamente fare di più. Lo ha detto il Ministro dell'Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste Francesco Lollobrigida, intervenuto a Flumeri in occasione della quattordicesima edizione di Incontro Armando 2024. Noi dobbiamo difendere il valore dei nostri prodotti trasformati per garantire anche al produttore il valore intrinseco del prodotto che riesce a realizzare con tanta fatica, con tanto rispetto delle regole, del lavoro, dell'ambiente e della qualità della produzione. L'Italia è stata autosufficiente per un periodo della storia. Abbiamo avuto, grazie a Nazareno Strampelli, una capacità di studiare e ricercare avendo dei grani che permettevano a parità di consumo del suolo di produrre il doppio. E lì siamo diventati autosufficenti e addirittura eccedentari nella produzione del grano duro. Sul grano tenero, che è il problema a cui lei fa riferimento con le vicende legate all'Ucraina, è un'altra storia sulla quale bisogna concentrarsi ugualmente. Detto questo, per la filiera della pasta parliamo ovviamente di grano duro e parliamo della ricerca sulla quale dobbiamo investire. Le cose che bisogna far accadere qui non porteranno un giovamento solo qui, ma ad un'area territoriale molto più ampia. Quindi dobbiamo fuggire dal provincialismo delle rivendicazioni di una parte di un territorio contro l'altro. Queste cose appartengono al passato. Aree interne protagoniste per rilanciare la battaglia contro l'autonomia differenziata. Questo è il tema della festa dell'unità 2024 che nel Sannio si terrà a Foiano di Valfortore il 12 e il 13 ottobre. La segreteria nazionale ha ribaltato le priorità dei dirigenti nazionali per quanto riguarda le feste che si sarebbero tenute nell'estate e nell'autunno militante, mettendo appunto come priorità le aree interne e marginali perché sono quelle che in tutto l'Occidente scontano una difficoltà rispetto al messaggio progressista. Così il segretario del Partito Democratico del Sannio Giovanni Cacciano presenta la festa provinciale dell'unità 2024 in programma il 12 e il 13 ottobre a Foiano di Valfortore. Un tema per rilanciare anche la battaglia contro l'autonomia differenziata. È la battaglia dirimente di questi mesi e è una battaglia che dobbiamo vincere dopo il successo della raccolta firme. Alla due giorni importanti esponenti del territorio Antonio Misiani, Marta Bonafoni, Marco Niccolai, Antonio De Caro e ancora il presidente della regione Vincenzo De Luca intervistato in diretta su 8 Channel dal direttore Pierluigi Melillo. E poi le istituzioni del territorio, il rettore dell'Università del Sannio Gerardo Canfora, il presidente di Confindustria Oreste Vigorito, il vicepresidente nazionale di Goldiretti, Gennaro Masiello e i sindaci sanniti. Siamo marginali alla regione Campania ma siamo anche centrali in un interland di più regioni, quindi Molise, Puglia, Campania. Purtroppo non siamo né carne né pesce da questo punto di vista. Però è anche una grande risorsa, si è al centro di uno snodo di importanti regioni. Se riuscissimo a creare dei collegamenti interregionali, il fortore uscirebbe definitivamente da questa marginalità. Pediatri da tutta la regione e oltre a confronto a Caserta per le giornate pediatriche casertane, il presidente del congresso è il professore Felice Nunziata che ha anche lanciato l'allarme sulla bronchiolite. Sentiamolo. Documentazione clinica, percorsi diagnostici riabilitativi, profili di cure e nuove sfide per la medicina pediatrica al centro del congresso organizzato da Felice Nunziata, primario di pediatria dell'ospedale Sant'Anna di Caserta e dai presidenti onorari Francesco Tancredi e Pasquale Femiano. Attualità in pediatria, alimentazione, emergenza e urgenza pediatriche, problemi emergenti, temi del congresso. Ci confronteremo ovviamente sulle nuove terapie che ci stanno, condizioni di tipo diagnostico, terapeutico che andremo a valutare in questo consesso. Tra le patologie che più preoccupano i pediatri c'è sicuramente la bronchiolite che già lo scorso anno ha tenuto con il fiato sospeso interi reparti per l'elevato numero di ricoveri e severità della malattia. Quest'anno non avremmo dovuto più vederne perché doveva esserci per tutti i piccoli lattanti la somministrazione dell'anticorpo monoclonale di Sevimab. Però pare che per dei disguidi anche economici non tutte le regioni siano pronte per affrontare questo tipo di condizione. Per cui ci aspettiamo la stessa bronchiolite negli altri anni. In apertura dei lavori anche il saluto del sindaco di Caserta Carlo Marino che ha lanciato un immito. Umanizziamo le nostre competenze. Più saremo bi-human e più potremo costruire attraverso l'innovazione, attraverso la nuova visione della sanità, una risposta che è quello su cui lavoriamo. Era l'ultimo servizio e il TG termina qui. Grazie di averci seguito. Grazie a tutti. Grazie a tutti.